bambolino e bambolotti buonasera allora questa sera vi andrò a fare praticamente un video dove vi mostrerò gli acquisti che ho fatto in questo mese anche se non sono tantissimi perché questo mese diciamo sono dedicata di più a comprare cose che mi servissero per il lavoro piuttosto che per me stessa quindi qualcosa l'ho comprato per me insomma l'ho presa come diciamo regalo del mio compleanno infatti vi faccio vedere l'all che ho fatto praticamente da fine settembre inizio ottobre anzi anche metà non mi sono dedicata molto a comprare cose per me vi ripeto quindi è poca roba l'holl di solito e mi sono sempre enormi comunque ho avuto dei soldi per il compleanno quindi non vi preoccupate regali compleanno saranno abbastanza allora a fine ottobre o forse anche a metà adesso non ricordo bene mi sono vista con la mia amichetta marianna meri napolegna 92 alla quale mando un bacione immensissimo e praticamente cosa abbiamo fatto io e marianna siamo andate a fare danni perché perché innanzitutto c'è stata l'apertura di lash a via roma no a via toledo sbagliato via c'è stata l'apertura di lash a via toledo quindi impazzite per forza siamo dovuti passare a lash poi lei aveva una promozione con la carta sephora black che praticamente con un totale di 70 euro aveva uno sconto praticamente di 15 euro quindi avrebbe pagato 55 per cui amma fatta avere comunque ha comprato lei però insomma ci siamo divise il bottino nel senso che ognuna di noi ha speso più o meno intorno ai 27 euro e ci siamo accaparrate delle cosine da sephora ad un prezzo ottimo quindi va subito a farvi vedere le cose che ho preso da lash guardate che la bustina carinissima lascio lascio preso non tantissime cose perché comunque per me è un nuovo brand nel senso che io non ho avuto mai l'opportunità di poterlo provare prima di adesso insomma di qualche tempo fa adesso testato anche bene i prodotti che ho acquistato per cui posso dirvi sicuramente qualcosa in più che mostrarvi solamente il prodotto la prima cosa che ho comprato è questa parlando alla follia e il mai senza ragazzi è un detergente viso adorabile lo faccio vedere sembra plastichina praticamente è anche la consistenza della plastichina ma dura di biscotto c'è un odore di biscotto assurdo odora proprio di biscotto ultimamente purtroppo vedrete anche dal resto che ho comprato mi sto fissando le profumazioni dolce non ho capito perché mi sono sempre piaciuto non è una donna incinta che ha le voglie ma non sono incinta quindi quindi niente non è per questo ci sarà qualche altro motivo mi mi stanno rendo letteralmente impazzire le profumazioni dolci proprio dolci cosa che io di solito non amavo e invece sto impazzendo questa è dolcissima se non mi piacciono gli odori dolci 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 non mi piace sicuramente non mi piacerà a me fa impazzire adora di biscotto in una maniera assurda basta prelevarne un pezzettino piccolo poi praticamente lo passate sotto l'acqua tiepida diventa proprio un detergente e lo passate sul viso anche un effetto scrabbante leggero che veramente dona al viso a parte mi vido molto più luminosa ma poi non lucida luminosa no perché non voglio che si fra in tenda e la pelle molto 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 più morbida quindi veramente io adoro 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 mi piace tantissimo sicuramente questo è una cosa che andrò a ricomprare perché veramente non ne posso fare più o meno mai senza e altre due cosi ne ho preso due che sono due oli solidi che ho fatto a metà con marianna quindi abbiamo la metà dei nostri cuoricini perché sono tutte e due a forma di cuore quindi che cosa tenera e uno è l'i love me che è assolutamente una cosa squisitissima e ha un odore di cioccolata e qualcosa di mazzesco come vedete questo è metà cuoricino l'ho usato già un sacco di volte ma come vedete non è che se vabbè era più grande però non si è consumato del tutto ed è buonissimo questo veramente una di quelle cose anche questa di cui non posso non provate lasciare perché veramente voi dopo non ne potete fare più a meno io almeno questi due prodotti ne ho provati tre in tutto però di due sono sicura che veramente non potrò fare a meno quindi devo andare a ricomprare quando finiranno questo olio solido lei lo mi lascia a parte la profumazione poi persistente e non è un odore dolce stucchevole mentre questo potrebbe esserlo ve lo dico prima poi andate in negozio dorate sentite provate tanto la potete fare quello che volete cioè nel senso sempre è relativo a quello che si può ovviamente e comunque vi danno la possibilità di provare i prodotti in negozio poi vedrete e questo veramente lascia la pelle morbidissima questo odore veramente non stucchevole molto gradivole sulla pelle mi piace veramente tantissimo è un altro simpatico è lo splendido splendente che è un altro olio solido il quale rilascia tutti i brillantini dorati sulla pelle e eccolo qua un altro metà pure questa come vedete lo usata di meno rispetto all'altra non per qualcosa ha un odore buonissimo anche questo di cioccolato però sempre delicato e non non credete chissà che cosa sia questo praticamente la particolarità che voi lo passate rilascia brillantini ma non pochi brillantini tanti tanti brillantini quindi io consiglio di usarlo con parsimonia o in determinate occasioni quando volete essere splendenti su tutto il corpo non lo so a voi sapere in quale occasioni comunque vabbè sono pessima in qualche occasione per esempio io l'ho usata non pensate a male tanto come un vertu già sta sta a Firenze quindi proprio per quelle occasioni no comunque l'ho usata per un matrimonio sono andato ad un matrimonio di sera si è sposato il cugino di mamma e praticamente dato che la mia scollatura era bella prorompente chi appunto insomma è mio amico sui miei social lo sa ho potuto vedere le fotografie quindi ha visto che scollatura avevo per cui essendo bella bella una bella scollatura il vestito praticamente avevo un taglio a cuore quindi una bella scollatura non volendo appesantire il decoltino non ho messo collane perché già era bello tutto scollato ho messo un bel paio di orecchini pesanti però la collana non l'ho messa quindi per dare quel tocco di luce di luce intenzia in più ho messo questo olio su tutto il corpo l'odore davvero gradibile e rilascia questi brillantini super simpatici veramente per un'occasione per una serata particolare io lo consiglio perché è bellissimo gli oli solidi mi sa che costano intorno ai 6 euro e 90 quindi contato che noi abbiamo fatto a metà c'è venuto a fare una fesseria se avete la possibilità di andarli a comprare con un'amica io ve lo consiglio perché metà olio basta e avanza cioè non serve veramente tutto e tanto e io sono sono grossa quindi ce potete capire insomma non si spreca tanto prodotto nello nel nello stenderlo insomma quindi lash impressione super positiva almeno per le cose che ho preso io poi andiamo avanti ritornando ai danni che dicevo che ha fatto sempre con marianna ho preso questo cofanetto della benefit non avevo mai provato niente della benefit ho detto è l'occasione giusta per poterlo provare questo è il priming white the star wig scusate priming with the stars che sarebbe questo e a prezzo pieno costa 35 euro e 50 io l'ho pagato 27 euro 27 euro 27 50 per via della promozione che vi ho spiegato prima e questi sono i prodottini all'interno quindi c'è il fondotinta il correttore la bene tint l'illuminante il professional e il diareal il mascara famosissimo di benefit ho testato tutti i prodottini vedete ce ne manca uno il professional che è una con una delle cose di questo cofanetto che mi è piaciuta forse quella che mi è piaciuta di più di tutte perché va a limitare veramente i pori dilatati sulla pelle quindi ora lo faccio vedere com'è fatto qua ci manca il professional per il resto c'è tutto perché domani devo andare devo andare a truccare una sposa speciale e quindi poi qua ci stanno stesse così nelle togliete c'è lo specchio potete o lasciarle così oppure le tagliate perché ci si possono tagliare a truccare una sposa speciale quindi lo tengo nella mia valigetta trucco al momento comunque questi sono i prodottini all'interno li ho provati tutti quanti quindi posso dire che il professional è assolutamente la cosa migliore che c'è in questo cofanetto almeno per me io non ho un problema tanto dei pori dilatati qualcuno qui più che altro ho provato su di me e già la resa era fantastica veramente ovviamente non è un prodotto che ho usato tutti i giorni a base siliconica per cui è pesante per un'occasione speciale come tipo matrimonio secondo me è un prodotto super valido perché veramente vi va a distendere la pelle a limitare tutti quelli che sono i poretti dilatati della pelle veramente fantastico poi ho provato questo il correttore che si chiama stay don't stray e il correttore un ottima coprenza nonostante un correttore liquido per me troppo chiaro dici tu sei bianca mozzarella ma come non ti va bene questo no perché un'occhiaia abbastanza pronunciata per cui il correttore light per me non va mai quasi non va proprio mai bene in verità quasi mai mai proprio quindi la colorazione non è giusta per me però va va è un ottimo correttore copre 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 abbastanza l'illuminante è carino si chiama girl meets pearl ma non lo comprerei mai in full size è carinissimo un correttore liquido un illuminante liquido super pratico carino e tutto il resto appresso però niente di che insomma si trovano in commercio cose simili o non simili a molto apprezzo molto più ridotto insomma carino perché sta qui insomma ma non lo ricomprerei stessa cosa il fondotinta questo fondotinta compatto nella tonalità media e devo dire che nonostante io sono chiara per me va bene e che dirvi è un buon fondotinta compatto però vi ripeto in giro ce ne stanno di migliori o uguali a un prezzo più ridotto per quanto riguarda la bene tint prodotto carino innovativo sfizioso mamma mia capra volevo dire innovativo sfizioso carino mi piace molto di più sulle guance che sulle labbra sinceramente sulle labbra non piace da un effetto proprio trasparentino non si nota quasi o almeno sulle minie non lo so per le guance per un effetto naturale per tutti i giorni è carino ma è sempre un prodotto sfizioso secondo me non non indispensabile un'altra cosa che ho provato appunto il mascara il di arial che è davvero un ottimo mascara veramente un ottimo mascara a me da più lunghizza che volume però veramente l'effetto non mi dispiace il mascara è buono per il prezzo è ottimo il prezzo che ha è un po' proibitivo però per chi ha le ciglia un poco sfigatelle come si suol dire secondo me uno dei mascara migliori quindi fatta questa recensione dei prodotti della benefit il cofaretto è molto carino dopo vi rimane anche la confezione fatta tipo al libro è stupenda quindi prenderlo a 27 euro mi è convenuto e come e sono contenta appunto di averlo comprato a questo prezzo probabilmente se avessi avuto il prezzo intero di 35 euro e 50 ci avrei pensato un attimino sopra però diciamo che il kit più completo che ti dà la possibilità di provare tutte queste mini size che poi sono adorabili le mini size sono bellissime non le butterò neanche quando finiscono poi con eri bruno invece mi vedi un po di tempo fa è praticamente io adoro lo sapete l'altra mia amica la quale mando un altro super bacione e ci vedevo appunto dalle parti sue e andammo allo allo shan di via argine dove lei sempre diceva quindi andammo lì e passammo dai brosci dai brosci comprammo la stessa cosa come si fa allora un profumino alla vaniglia che non è per niente stucchivole è veramente è dolce però non è uno di quei profumi fai addio puzza tantissimo cioè non è quelle cose dolci che danno fastidio è dolce ma non è stucchivole è veramente buono io ho preso la mini size perché appunto parte che mi è comodo tenerla in borsa se sto via e cose del genere e poi per provarlo appunto non costa niente di che mi pare 3 euro e 90 o 2 90 non mi ricordo l'odore è veramente buono e non è per niente nonostante sia la vaniglia stucchivole altra cosa abbiamo preso il burro cacao questo al cocco si vede eccolo burro cacao al cocco che mi sta piacendo tanto mi tratta bene le labbra il profumo non sa relativamente di cocco però comunque voglio dire un ottimo balsamo labbra l'ho pagato 1 euro e 95 quindi anche poco insomma poi poi da una mia amica che un punto di guarda della quale fidanzato rivende prodotti cosmetici anna se vedi questo video ti mando un bacio però se lo vedi va bene uguale ho preso due prodotti che li negozio praticamente penso siano erano in offerta perché l'ho pagato 6 euro e questo è il fondotinta della mi blint mi blint mi blint l'istant anti age nella tonalità 20 cameo questa è la mia che è abbastanza rosata allora vi voglio dire una cosa questo fondotinta è fortissimo è fenomenale veramente bello una coprenza medio alta però che non da vedere cioè sembra veramente la tua pelle naturale mi piace tantissimo proprio tanto una cosa però vi devo dire a mio vantaggio a vostro sfavore o a sfavore di chiamato sottotono giallo questi fondotinta della standard age tendono a fare un sottotono rosa per cui mi pare che il 45 che è medio e un medio questo è chiaro ha un colore un po più giallino però contate è che per la maggiore tendono tutti a rosa quindi a un sottotono rosa non fanno l'effetto rosa tipo peppa pig però comunque tendono ad avere un sottotono rosa a me piace tanto e averlo dato 6 euro sono contentissima perché bellissimo questo fondo altra cosa ho preso in offerta 3 euro e questo lip gloss sempre della maybelline questo super stay 10 ore tint gloss che ho rutto però riesco a usare uguale e questo è la colorazione viola che faccio vedere che vi faccio vedere posso far vedere solo qua ecco qua viola non fortissimo però comunque si nota bellino io la metto praticamente e poi la stendo col dito perché ho rotto la spugnetta e l'ho e l'ho rinfizzata dentro sono fantastica dite la verità praticamente la mia spugnetta sta qua dentro la potrò mai più prendere però lo uso uguale l'ho pagato tre euro quindi sono contentissima di averlo comprato quindi questi sono i miei acquisti basta stop e fine per quanto mi riguarda